Fare recensioni? Ma che mestiere è? Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop e oggi permettetemi un breve monologo sul fatto di capire che mestiere facciamo. Perché? Perché me lo sono chiesto più di una volta. Più di una volta mi sono detto, ma che mestiere facciamo a noi? Vendere recensioni? Non esiste, è come se non fosse in elenco. Siamo edili, siamo artigiani, siamo dei commercianti. Non lo so, questo non l'ho ancora capito sinceramente. La prima considerazione che faccio è questo, ma la gente in generale sa che esiste chi fa questo mestiere. Vi faccio un esempio. Qualche tempo fa ci siamo scritti nella pagina di LinkedIn e nella menù a tendina del mestiere che fai ce n'erano 3000. Porca miseria, non ho trovato quello che più si avvicinava al nostro. Io non pretendevo che ci fosse scritto fai recensioni, ci mancherebbe altro. Ma un qualcosa che si avvicinasse, non l'ho trovato. Sembra quasi che il nostro mestiere sia mischiato insieme ad altre attività che poi in realtà non vanno neanche bene. Perché quando ho letto sei un commerciante, beh sì, lo siamo anche, ma non siamo solo quello. Sei un edile, beh sì, andiamo anche nei cantieri, ma non facciamo solo quello perché commercializziamo anche. Cosa fate? Quindi il nostro settore, che comprende più tipologie di lavoro, non viene in qualche modo definito. Io credo un po' che il fatto sia questo, che tutti credono che tutti possano fare le recensioni. Mi spiego meglio. Siamo abituati a aprire un sito dei grandi marketplace magari, o nei grandi magazzini, nei grandi centri commerciali, dove un pezzo di rete tutti la vendono. Un rotolo di rete, una matassina di filo, un paletto, sono tutti capaci a venderlo. Ma ben diverso è vendere un prodotto, semplicemente uno dei tanti che vendi, rispetto a viverci di quei prodotti. Quindi noi viviamo di recensioni e quindi questo comporta il fatto che necessariamente abbiamo dovuto organizzarci, ci riteniamo specializzati in questo, lo posiamo, lo tocchiamo con mano, lo vendiamo a 360 gradi. Noi facciamo quello di mestiere. E quindi mi sono detto veramente più di una volta, ma tutti pensano che questo mestiere possa essere fatto veramente da tutti. Cioè il primo impresario edile che passa dice, ma sì, ho fatto una casa, cosa ci vuole? Faccio anche una recensione. È vero, se hai fatto una casa sarei sicuramente stato più bravo di noi che facciamo solo recensioni. Ma nell'insieme sei un professionista? Ecco, è questo che vorrei capire insieme a voi. Non dimentichiamoci poi che le recensioni che, intesa a 360 gradi, magari in quelle nel settore professionale, sportivo ad esempio, sono recensioni che possono anche essere complicate. Noi quotidianamente ci scontriamo con delle realtà dove ci sono dei campi sportivi da restaurare o da fare da zero, magari con delle difficoltà tecniche più o meno elevate. Insomma, non ritengo che l'ultimo arrivato, il grande marketplace di turno o il cugino famoso arrivi e faccia una recensione. Non a caso poi si vedono in effetti di lavori fatti così e così. Quindi, insomma, la figura di chi fa recensioni io ritengo che non sia conosciuta. Sono qua in questo video appunto per divulgarla e per chiedere a voi anche un parere a riguardo. Ultima considerazione che voglio fare è questa. Anche se non si vedono le persone come noi, ma in Italia, quantomeno parlo in Italia, sono tanti i personaggi, le figure che lavorano in questo settore. Noi siamo una realtà in tutta Italia, ce ne sono sparse a decine e sono centinaia le persone che lavorano in questo settore. Eppure non si sentono. La domanda finale è questa. Cosa facciamo? Da dove veniamo? E come ci chiamiamo? Io voglio che chi fa recensioni venga classificato. Ciao a tutti, buon lavoro.